Musica Giovanni in campo in memoria di Giovanni Guarino Partita del cuore questa mattina allo stadio Liguri di Torre del Greco Calcio d'inizio affidato alla mamma di Giovanni L'iniziativa è promossa dall'Associazione Libera con il patrocinio del Comune con l'intento di sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità Assessore allo sport Giuseppe Speranza stamattina allo stadio Liguri la partita del cuore in memoria di Giovanni Guarino Mai più violenza, mai più gesti inconsulti questa partita vuole essere una testimonianza per ricordare ai giovani che la violenza non fa crescere, anzi distrugge Federica tu sei la cugina di Giovanni stamattina i giovani scendono in campo in sua memoria Sì e vogliamo ringraziare tutto l'istituto noi cerchiamo sempre giustizia per Giovanni Don Ciro Cozzolino è rappresentanza dell'Associazione Libera stamattina qui a Torre del Greco questa partita del cuore in memoria di Giovanni Guarino l'importanza di queste iniziative L'importanza di queste iniziative ovviamente non sta semplicemente nella partita ma proprio nel significato il nostro territorio purtroppo alle volte si caratterizza proprio per il silenzio i giovani di Torre Anunziata fin dall'inizio non sono voluti restare in silenzio hanno denunciato e hanno preso a cuore e hanno preso cura di Marianna e Antonio non identificandosi assolutamente in gesti così efferati e così violente Noi ci auguriamo che questo percorso in nome di Giovanni possa portare veramente un'energia positiva a tutto questo nostro territorio è molto importante che i giovani di questo territorio camminino insieme non ha credo tanto senso più parlare di diverse città i giovani di questo territorio sperimentano molto il fatto di trovarsi insieme all'università stanno insieme, escono insieme quindi io credo che è molto importante che i giovani anche in vari forum delle varie città della zona vesuviana comincino a pensare, a ragionare insieme e a porre un argine contro la cultura dell'illegalità, dell'ingiustizia e dell'omertà grazie Grazie a tutti.